Con Carlo Rubinacci, allenatore di questo camaiore che ha dibuttato benissimo alla Best Top allievi di questa stagione, subito una bella vittoria, una bella partita con il San Giuliano Carlo, mi sembra che la risposta c'è stata, la squadra assolutamente si è impegnata molto. Sì, stiamo continuando su questo trend, abbiamo vinto il campionato e stiamo affrontando questa manifestazione molto bella, organizzata molto bene e sì, siamo partiti bene, col piede giusto con questa vittoria, anche se è stata una partita combattuta perché siamo andati in vantaggio subito, poi dopo abbiamo usato una ventina di minuti che loro hanno preso il domenio della partita in mano, però dopo ci siamo rimessi a posto, soffrendo un po' e poi dopo abbiamo ripreso il nostro tipo di gioco, penso che in fondo la vittoria sia abbastanza meritata. Ecco, con San Giuliano che è un po' un'avversaria storica, l'anno scorso nel campionato agli ABB vi siete trovati di fronte, che poi avete vinto. Sì, l'anno scorso eravamo nel girone insieme agli ABB, abbiamo vinto il campionato e tra l'altro con Stefano l'allenatore è andato ad un'amicizia buona da due anni e ci conoscevamo, dei due squadri ci conoscevamo a memoria, abbiamo giocato tra l'altro anno due partite, poi al torneo di Camaiore che poi noi due abbiamo vinto, l'abbiamo battuto in semifinale e ora ci siamo rincontrati quest'anno. Tra l'altro sono contento anche per Stefano che hanno vinto il campionato loro nel girone di Pisa, è stata una bella annata anche per loro, sono felice per lui. Senti, ritorniamo un attimo dietro a questo campionato, eravate tra i favoriti, partivate con l'ambizione, con l'obiettivo, però com'è andata questa stagione? Sì, partivamo tra le favorite, noi, San Marcavenza, Seravezza, Lese, le prime quattro che ci siamo classificati. Abbiamo avuto dei momenti ottimi, come dei momenti di calo, come tutte le squadre penso hanno durante il campionato, poi se noi, essendo nella zona di Camaiore, te lo sei bene, anche se siamo a Camaiore, ma al Carnevale è vicino alla zona nostra, infatti il cavo nostro l'abbiamo avuto nel periodo del Carnevale di Viareggio, nel senso che sono ragazzi di 16-17 anni, è chiaro che un po' si lasciano andare, però poi dopo abbiamo recuperato, in conclusione abbiamo vinto questo campionato qui con 5 punti sulla seconda, 7 sulla terza e 13 sulla quarta, insomma, un'annata, abbiamo fatto 127 gol, ne abbiamo subiti 17, di cui abbiamo fatto tutti i vittori, meno 4 pareggi, una sconfitta. Un gruppo importante, che mi sembra negli anni a Camaiore ha fatto bene questo 2002. Sì, io ho preso un gruppo qui, l'ho preso lo scorso anno, loro eravano stati due anni con Roberto Casini prima, avevano fatto giovanissimi B, l'hanno vinto, poi avevano fatto giovanissimi A, l'hanno perso per un punto a danni di Lorto Re Mazzano che è andato su e da due anni ce l'ho io, in due anni mi hanno dato grosse soddisfazioni e la difficoltà è stata, dopo l'anno scorso, tenere tutti questi ragazzi qui a fare provinciale è stata dura e sono contento che con me si sono trovati bene e hanno fatto un patto che sono rimasti tutti Anzi, vi siete anche rinforzati, non mi dicevi? Sì, poi abbiamo avuto l'avvento sia all'inizio che durante l'anno, abbiamo avuto all'inizio rientro di Puccinelli e Jacobini che erano già stati a Camaiore gli anni prima, poi erano andati a margine. Per risalto di circostanze sono ritornati da noi, poi durante l'anno abbiamo preso altri paio di ragazzi, che oggi uno non c'era, che è Cappellino in 2003 che giocava nell'Aquila Sant'Anna, che ha avuto diversi infortuni e un altro anno dovrebbe ricominciare da capo un'annata speriamo più fortunata per lui e più a dicembre abbiamo preso anche l'Ugrano, il secondo portiere che era la Frosce Merde, è più segregato dai traversi che lui già aveva uno scorso anno, era con gli allievi, poi essendo un 2002 giocava già con i 2001 e quest'anno è ritornato con noi. Sì, la rosa è sempre la solita, più questi che ti ho elencato. Senti, i ragazzi che adesso entreranno anche nella logica sia della Juniors di Camaiore ma magari potrebbero essere anche appetiti da club per fare i campionati più importanti eppure secondo te che faranno questi ragazzi? Guarda, loro hanno avuto una riunione con la società la scorsa settimana e poi si dovranno rincontrare perché chiaramente la società deve trovare l'allenatore e in questi giorni qui dovrebbe definire chi li allena. La Juniors. Sì, per vedere come discuto con i ragazzi per il fatto di chi resta e chi non resta, è chiaro che sai anche te che ci sono dei parametri, c'è Roma pare, per gli allievi che passano i Juniors. Io spero che loro restano tutto il gruppo, anche se io non l'avrò più, non ci sarò più. Eh, ancora un po' di dolutissima domanda e la cosa farà Carlo Ruminacci. Spero che restano tutti perché per cercare di recuperare la categoria e riportare le Juniors a fare regionali, nel senso che hanno perso la categoria quest'anno e spero che quel gruppo se restano loro hanno buone possibilità. E invece l'ultima domanda, dove invece chi allenerà Carlo Ruminacci? Ma io 99 su 100, diciamo quasi al 100% dovrei allenare il 2003 che passa a regionali e che scorso l'anno l'aveva Miliani Walter e ha fatto un ottimo lavoro e dovrei passare io a fare il campionato regionale e ci siamo conquistati e inizierò questa avventura con un nuovo gruppo. Perfetto, e vi seguiremo. In bocca al lupo, complimenti per il campionato e adesso vi seguiremo in questa best. Grazie Carlo, grazie.